Ritengo che questa rimodulazione sia stato sicuramente un attestato di stima da parte del sindaco nei miei confronti perché sono due deleghe molto importanti e fondamentali in questo momento nel divenire politico proprio perché, come ricordava, entro la fine di marzo abbiamo la scadenza per il bilancio di previsione e poi l'urbanistica è uno degli assessorati più importanti che portano avanti quella che è l'idea di città. Quindi sicuramente più futuristica. Mi è dispiaciuto lasciare la polizia locale perché avevo instaurato dei rapporti umani e anche delle progettualità da portare avanti ma sono sicura che il neoassessore Germano Baldi procederà comunque per il miglioramento e il perfezionamento di quello che si era iniziato a fare. Assessore, nell'ambito delle sue deleghe c'è anche quelle trasporti. In questo momento con la frana tra Vitri sul Mare e Salerno è importantissimo quello che è poi l'ambito dei trasporti qui a Cava dei Tirreni e sono tantissimi disagi e difficoltà che sono state riscontrate sia dai pendolari che dagli automobilisti che ogni giorno percorrono quel tratto. Si parla anche del casello autostradale, quindi del pagamento del pedaggio e quant'altro. Tante criticità che devono essere comunque affrontate con una certa impronta veloce. Assolutamente sì, il tratto che è stato coinvolto dalla frana è un'arteria fondamentale veicolare sia per coloro i quali da Salerno si dirigono a Cava sia viceversa per i cavesi che vanno a Salerno. L'eliminazione in questo momento di quel passaggio che era percorso da moltissimi avventuri ha creato non poche difficoltà sia da un punto di vista di mera viabilità sia per quanto riguarda per quella che è la mia delega i trasporti veri e propri. Immediatamente c'è stata una rimodulazione di tutte le linee che percorrevano quel tratto per il quale è stato predisposto un passaggio obbligato per la stazione di Cava dei Tirreni e poi un tornare indietro prendendo l'autostrada. Il problema autostrade è importante e dirimente innanzitutto per il pagamento del pedaggio perché è stata un'eccezione sollevata da molti, è stata sollevata anche sul tavolo tecnico che è stato effettuato con il prefetto di Salerno. Il prefetto di Salerno ha sollecitato la società autostrade ad intervenire in tal senso e da quel che sappiamo ci sono stati dei momenti altalenanti in cui il pedaggio non è stato pagato e altri in cui invece c'è stato il pagamento. Sicuramente è auspicabile che ci sia poi una programmazione, una linea così da dare ai cittadini un punto di riferimento e dei dati certi. Quindi è importante che noi come amministrazione monitoriamo la situazione cerchiamo di regolamentarla per quanto è possibile sia per la viabilità quindi con la polizia locale sia per i trasporti cercando ovviamente di trovare a breve termine delle soluzioni emergenziali ma a lungo termine in programmazione delle soluzioni definitive e ottimali per i cittadini. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!